È finita in tragedia la festa di Capodanno in una discoteca di Vittoria, in provincia di Ragusa. L'episodio si è verificato all'alba di ieri nei pressi della discoteca La Dolce Vita. Un giovane di origine nordafricana è stato ucciso da un gruppo di romeni per degli apprezzamenti rivolti a una ragazza. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri nei pressi del locale, abituale luogo di ritrovo dei tanti migranti che vivono e lavorano nella zona. Sono state alcune persone presenti alla festa ad avvertire i militari che una volta arrivati sul posto hanno trovato il giovane senza vita. La vittima si chiamava Slimman Marun, tunisino di 30 anni. È stato ucciso per degli apprezzamenti rivolti nei confronti di una ragazza romena durante festeggiamenti di Capodanno. Per il suo omicidio il procuratore di Ragusa, Fabio Danna, e il sostituto Silvia Giarrizzo hanno disposto il fermo di un maggiorenne e due minorenni romeni. Inoltre, i carabinieri della Compagnia di Vittoria e del Nucleo Investigativo di Ragusa hanno raccolto una serie di testimonianze e trovato le armi del delitto. Due spranghe di ferro e un coltello a serramanico. Erano all'interno della macchina del maggiorenne che ha confessato l'omicidio. Intanto continuano le indagini per fare definitivamente chiarezza sul movente. Grazie a tutti.